Ciao, ciao Nicolo, grazie della disponibilità di fare questa chiacchierata con me. È un piacere, ciao a tutti e grazie per avermi invitato. Eh che scherzi, tu fai una delle cose penso più belle che sognano un po' di fare tutti a un certo punto, di dire chiudo tutto in valigia, parto e viaggio, vedo il mondo. Com'è che è nata questa tua passione, questo tuo modo di vivere, perché ormai è un modo di vivere effettivo? Allora, diciamo che ho iniziato studiando turismo, lavorando in ambito turistico, mollando tutto e decidendo di fare il videomaker, con la passione per i video ho coltivato quello che ho costruito sui social, ci sono ricascato nel mondo del turismo e adesso mi occupo di content creator, di tour operator, di libri e di altre cose che ruotano tutte attorno alla mia più grande passione che è quella per i viaggi. Quindi in parte hai già studiato per fare questo, poi l'hai unito a una passione perché se... Sì, 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 io ho studiato turismo qua dalle mie parti, c'è l'Istituto Turistico. Ma ti realizzi video da solo oppure raccontaci un po'? Io realizzo video da solo, sì, li registro io, li monto io, li pubblico io, gestisco tutti i social, quando uno mi manda un messaggio privato sono io che rispondo. L'unica cosa che non faccio sono le mail e la parte burocratica che ovviamente in Italia è mastodontica e se curassi anche quella non avrei tempo di fare nient'altro. No, beh, già fai tantissimo. Senti, ma che cosa vuol dire per una persona come te viaggiare? Ho capito che hai una grande passione per il turismo e hai studiato per fare questo, però tanti lo studiano in questo paese e pochi però riescono effettivamente a fare quello che fai tu. Beh, diciamo che per me viaggiare significa fare ciò che penso di saper fare meglio e quindi la mia realizzazione sta nel fare di tutto ciò un lavoro e se posso permettermi di continuare a farlo e di vivere grazie al viaggiare quella è proprio la massima delle mie aspirazioni e andare alla scoperta del mondo, ampliare i miei orizzonti, vedere che c'è un mondo intero al di fuori dall'Italia trovo che sia estremamente importante e costruttivo nella crescita personale di ciascuno. Certo, infatti ti volevo proprio chiedere questo, quanto può contare per un ragazzo fare un'esperienza, non dico come la tua, però un'esperienza di viaggio all'estero? Beh, sicuramente conta tantissimo, io mi pento di non aver avuto l'opportunità di fare magari un anno all'estero che forse al tempo non avrei avuto il coraggio di fare, però se avessi fatto per esempio un anno negli Stati Uniti o comunque in un paese al di fuori dell'Italia sarebbe stato super formativo, però sono contento del mio percorso di dove sono arrivato e di cosa sto facendo. Persino tu che viaggi tantissimo ti sei pentito di non aver fatto un anno all'estero, figuriamoci. Sì, sì, cioè secondo me quella è un'esperienza veramente formativa che vuole dire tanto, come penso anche l'Erasmus, ma non ho fatto l'università e quindi non saprei. Quali sono gli ostacoli che si incontrano facendo una vita come la tua, oltre a quelli burocratici che già mi hai giustamente raccontato? Beh, gli ostacoli burocratici sono sicuramente quelli più rossi, però per esempio anche il fatto che il mio lavoro non era riconosciuto come un proprio codice a teco fino all'anno scorso, due anni fa. Cioè è sempre stato tutto molto difficile, molto nebbioso, no? Quando c'è da cercare di fare le cose per bene, vedi che mancano i mezzi per farlo, ma al di là della parte burocratica, penso che possa essere difficile starci dietro un lavoro così, perché comunque è un lavoro che comporta in tempi normali pre-Covid, orari assurdi, voli interminabili, fusi orari che ti scombustano tutto l'organismo, cibi diversi, ritmi diversi, anche cose faticose, comunque serve stare al passo anche con la creatività e le idee e saper realizzare tutte le cose che hai in mente. Poi nel mio caso che faccio tutto da solo, mi sono proprio tirato la zaffa sui piedi, perché avrei potuto affidarmi tranquillamente a dei collaboratori che mi avrebbero semplificato la vita. Infatti stavo per dirti, se ti gestisci l'agenda da solo, anche decidere dove andare, quali voli prendere, diventa un lavoro veramente complicato. Sì, io vabbè adesso ho il supporto della mia agenzia giù in Puglia, ho il supporto della mia assistente che mi cura praticamente tutto, infatti voi vi siete interfacciati con lei, perché altrimenti io mi sarei tranquillamente dimenticato dell'intervista. Se oggi parto so dove andare grazie a lei, cioè a un certo punto devi proprio staccare, prendere la parte creativa del cervello e metterla sul comodino e dire ok, adesso utilizzo soltanto questa e basta, perché altrimenti non ci stai più dietro. Io quando ho iniziato ad affidarmi anche a altre persone, a farmi aiutare, e tenendo soltanto la parte dedicata ai video, alle idee, alla realizzazione di queste idee, adesso sto lavorando molto meglio. Ascolta, quanti anni fa hai iniziato e da che tipi di viaggio hai iniziato? Io ho iniziato a viaggiare quando ero piccolino, ma erano più belle vacanze anni 90, poi negli anni 2000 ho fatto delle belle vacanze anni 2000, a un certo punto sono andato in India da solo, ho capito che esplorare e avventurarsi poteva essere la mia strada, ho iniziato a vivere delle avventure decisamente più serie, più formative, più personali, più spirituali anche, e tutto ciò si è tradotto in un cambio di gusti che mi ha portato ai viaggi che faccio adesso, che diciamo sono un po' più pazzi, un po' più strani, cioè diciamo che preferisco organizzare dei viaggi un po' fuori dal comune, poi ci sono quelli che organizzo con il mio tour operator che proponiamo al nostro pubblico, che invece sono dei viaggi puramente indicati per le persone che vogliono staccare, partire e vivere una bella avventura. Ma com'è che li scegli? Scusa la curiosità, e qua insisto perché provo a mettermi nei tuoi panni, dovessi decidere dove andare, vabbè esauriti i dieci posti che voglio vedere perché li voglio vedere da tutta la vita, poi c'è una razza che ti guida nella scelta oppure vai proprio in libertà? Adesso è molto facile scegliere dove andare perché si può andare in pochissimi posti, e quindi la scelta è molto limitata perché non c'è concesso di essere liberi di andare ovunque, siamo tutti cittadini del mondo, ma non ci possiamo andare in giro per il mondo, dove puoi andare se fai questo di lavoro in un po' più di posti, quindi ho iniziato a guardarmi intorno cercando di capire come fare per non essere troppo ostacolato dalle norme attualmente vigenti, perché comunque devo viaggiare ma devo anche lavorare, se viaggio all'estero in posti fuori dall'elenco C, dopo torno a casa, anche se sano devo fare 14 giorni di reclusione, quindi come posso fare? Ho prenotato per uno dei pochi paesi dove potessi andare senza questi problemi, ovvero l'Albania e finalmente sono in Albania. È una terra che io conosco bene. Io il primo di giugno non vedo l'ora, ho prenotato, vado da solo, ho soltanto il volo di andata, il volo di ritorno, devo ancora prenotare per il tampone, la macchina, tutto, non so niente, infatti oggi è uscito un video che ho chiesto ai miei follower albanesi di darmi dei consigli, mi stanno scrivendo in milioni e quindi sono in buone mani perché sicuramente sarà un viaggio fighissimo. Sì, è una terra bellissima, io ci passo spesso le vacanze perché ho il mio compagno che è di lì, per cui è molto molto bella anche se non si direbbe, diciamo che è ancora poco attenzionata. È sottovalutata, sì, anche se si mangia bene, si vive bene, la gente è molto accogliente che anche questo è un dettaglio non piccolo, non importante, poco importante quando vai in un paese. Sì, è un paese dove c'è molta cultura dell'ospitalità. Sì, ma ho visto che, almeno ho visto uno dei tuoi video, non so se hai veramente girato il mio territorio e solo ho fatto un video sulla Langa, io sono della provincia di Cuneo, quindi della terra. No, no, io ho fatto diversi giri da quelle parti perché la parte dei Piemonti che preferisco è quella delle Langhe, Langhe Roero e Monferrato, che è tutto tra l'altro i paesaggi vitivinicoli sono un patrimonio unesco, quindi insomma tutta una zona molto figa e l'anno scorso abbiamo organizzato anche il nostro mega festone annuale in una villa a Treiso, quindi molto bello, che si affacciava su Alba, molto figo. No, no, ma è bellissimo perché solitamente, vabbè, noi che siamo di qua conosciamo benissimo il territorio, adesso turisticamente sta cominciando ad esplodere, però vederlo presentare come una figata, usiamo un termine tecnico, da uno come te che ha visto tutto il mondo è una soddisfazione non da poco per chi vive queste terre in cui non c'è proprio tantissimo da fare a parte che degustare i prodotti del territorio. Senti, che non è poco, effettivamente è vero. Quali sono le piattaforme social su cui maggiormente ti muovi? Perché insomma ci hai detto che fai un po' tutto da te, quindi immagino che anche la gestione delle piattaforme su cui carichi i contenuti siano abbastanza dirette a far arrivare un messaggio a un certo tipo di pubblico. Esatto, allora bisogna fare delle scelte perché altrimenti non riesci a star dietro a tutto. Io attualmente sono principalmente su YouTube perché comunque quella è la mia piattaforma anche se dedicarmi troppo a YouTube porta via molto tempo che potrebbe essere speso meglio su altri social però è tutto partito da lì la mia community più forte ce l'ho lì e quindi mi sembra doveroso almeno un video la settimana riuscire a metterlo e quindi mi ci dedico da sempre non ho mai mollato a parte alcuni periodi dove non riuscivo a starci dietro o magari volevo prendermi una pausa ho continuato la mia strada su YouTube Instagram sta andando ultimamente molto forte ho deciso di puntarci di più in termini di proporre contenuti su Instagram perché ho visto che il profilo mi è cresciuto tantissimo la gente proprio vuole più cose Twitch l'avevo iniziato e subito accantonato perché sinceramente l'idea di star lì davanti al computer o comunque davanti a uno schermo per così tanto tempo cioè io già adesso faccio fatica a stare fermo e siamo in live da 11 minuti ti vedo in realtà stavo cercando di sistemare la Sony perché avevo un problema con i file che mi appesantiscono il computer e non riesco a montare ci sto mettendo le ore TikTok mi sta piacendo molto sono recentemente diventato anche ambassador di TikTok sicuramente il social di riferimento per quando hai 5 minuti da buttare e poi vabbè ogni tanto scrivo su Twitter cose simili sono un po' ovunque ma principalmente Instagram e YouTube principalmente Instagram vabbè forse anche perché quello che si presta di più rispetto non solo a come sei fatto tu come persona perché effettivamente Twitch si presta più a dialoghi un po' più lunghi invece Instagram ma anche rispetto a quello che fai il fatto di caricare video e foto che sono meravigliosi funziona di più su una piattaforma snella come quella io ho sempre sentito dire dagli anziani quelli più anziani di me quantomeno viaggiando si impara e tu che hai viaggiato tantissimo io adesso sono ministro delle politiche giovanili per cui mi sento anche un po' in carico questo peso morale di formare le nuove generazioni rispetto a quanto è importante investire su se stessi sulla propria formazione sul proprio io quanto è importante investire nel viaggiare anche per chi non ha possibilità però è importante comunque provare delle esperienze all'estero si impara? quanto si impara? che cosa si impara? io penso che sia importantissimo per la formazione personale il viaggio che sia un viaggio di gruppo di quelli che organizzo io anche se viaggio di gruppo è proprio un termine bruttissimo che non rende l'idea perché comunque fare un viaggio con me o comunque con noi di Sivola vuol dire partire dalla scoperta di posti conoscere nuove persone nuove culture interfacciarti con persone che hanno viaggiato più di te e questo è molto figo un viaggio totalmente zero budget potrebbe essere molto figo perché ti mette nella condizione di adattarti ti mette nella condizione di raggiungere un obiettivo anche con meno risorse più di una vacanza extralusso io non penso che una vacanza extralusso sia un qualcosa di informativo per la persona ma sicuramente un cammino come quello che ho fatto io a Santiago che costa pochissimo quasi niente si può fare anche volendo gratis sia molto più informativo di tante altre cose adesso purtroppo è un qualcosa di visto quasi male no? il viaggiare oddio no bisogna stare a casa stare in Italia eccetera però le persone quest'anno soprattutto l'hanno capito lo stiamo vedendo dalla risposta del nostro pubblico del nostro bacino d'utenza che la voglia di andare alla scoperta del mondo di andare all'estero è fortissima perché non è bello chiudersi nel proprio paese ma ampliare i propri orizzonti è sicuramente almeno per me una priorità è chiaro che quest'anno è stato insomma per chi come te è abituato a viaggiare e si vede a contatto che sei uno spirito libero rimanere bloccato così tanto tempo non deve essere stato facile non è stato facile per nessuno ora è chiaro che ci sarà la bolla penso di voglia di ripartenza notevole ce l'ho anch'io che nonostante tutto per il lavoro che faccio non mi sono mai fermata posso immaginare per chi è rimasto completamente chiuso in casa in questi mesi quindi è logico che l'attesa e l'aspettativa c'è molto però diciamo anche in un contesto al di fuori del 2020 di questo pezzo di 2021 sul reale in generale viaggiare è un'esperienza almeno io ricordo anche solo i viaggi che facevo da piccolo che i miei genitori mi hanno insegnato delle cose incredibili e ho visitato poi i paesi europei non ho ancora avuto la fortuna di andare in paesi di cui parlavamo prima di iniziare la diretta come l'India che a livello spirituale sono devono essere qualcosa di incredibile meraviglioso effettivamente può essere utilissimo perché poi uno secondo me rifletta anche molto su se stesso quando visita i paesi diversi dal proprio si mette a confronto con altre culture si riesce a scoprire di sé molto più di quello che si pensa secondo te lavorare nel turismo è oggi una strada che potrebbe essere intrapresa o dovrebbe essere intrapresa da un ragazzo? Io penso che il nostro paese possa essere un paese che veramente ha troppo da offrire per quanto riguarda il turismo nel senso che davvero dovrebbe esserci lavoro per tutti solo in ambito turistico ci sono paesi che hanno meno di noi che lavorano quasi esclusivamente con il turismo purtroppo questa cosa è molto complicata e spesso volentieri si è più portati a muoversi verso l'estero perché insomma avviare un'attività o comunque lavorare in questo settore tralasciando il fatto della pandemia è difficile in Italia perché mi è capitato di entrare in contatto con tante realtà per esempio a me piace far vedere su Instagram posti particolari dove dormire sono andato a vedere un posto dove si dorme dentro una botte di vino in uno dove si dorme in una cupola di vetro e tutti mi dicono che a livello di burocrazia ti segano le gambe quando vuoi essere un po' creativo e fare qualcosa di particolare quindi in Italia se si vuole fare qualcosa di diverso è più complicato rispetto ad altri paesi perché negli Stati Uniti mi è capitato di vedere uno che affittava una roulotte davanti alla scritta di Hollywood da noi una cosa del genere è impensabile devi passare da trafile burocratiche che ti impediscono di fare qualsiasi cosa quindi è un paese che ti sega molto le gambe in termini di giovani in termini di creatività voglia di fare qualcosa di diverso però il turismo è una ricchezza così grande per il nostro paese che secondo me debba essere importante coltivare il mondo e il lavoro di questo ambiente io personalmente sto cercando nuove figure professionali che vengono a lavorare per noi infatti tra una settimana abbiamo un corso di formazione per trovare nuovi coordinatori ai quali faremo fare un po' il lavoro dei sogni perché alla fine vengono pagati per viaggiare per conoscere gente divertirsi in giro per il mondo quindi è un bel lavoro però noi siamo veramente selettivi perché appunto ci teniamo alla qualità dei nostri viaggi e penso che un 3-4 persone quest'anno le prendiamo cioè a suo giro sto mese le prendiamo che cosa chiedete scusa la curiosità anche mia ma penso magari anche dei ragazzi che ci seguono a livello di caratteristiche per fare un lavoro come questo beh è fondamentale aver viaggiato e saper viaggiare tanto e soprattutto è necessario un livello di problem solving e di carisma anche per stare con le persone che giustifica il nostro dire ok ci vai tu al posto mio cioè se io devo organizzare un viaggio da qualche parte e non vado io in primis proprietario dell'azienda ma amando te tu devi essere bravo quanto me nel portare le persone a fare un'avventura fighissima a farle divertire a spiegargli le cose a guidare il van per ore non so se a luna di notte c'è l'aurora boreale ti devi alzare devi portare la gente a vedere l'aurora boreale è un lavoro molto complicato ma chi lo sa fare diventa il lavoro dei sogni perché appunto è una figata cioè io io personalmente quando porto i gruppi per quanto sia stancante quanto sia complesso e torni a casa devastato è proprio fighissimo e la gente ti gratifica tanto perché il loro entusiasmo alimenta la tua voglia di continuare a farlo ci credo quali progetti hai tra qui e diciamo i prossimi mesi oltre al viaggio di cui ci hai già parlato nell'est Europa diciamo così in Albania hai già l'est Europa in Albania è proprio una cosa giusta per fare dei video e dei contenuti perché ultimamente sto pubblicando poco dato che sono molto indaffarato a seguito dell'Albania andrò in Africa per un progetto con la mia azienda andremo alla scoperta di una situazione molto particolare andremo a cercare Gorilla e andremo anche a scoprire la storia di questo signore italiano insomma che è andato a vivere là faremo un mini documentario dopodiché partirò per un viaggio che dovrebbe essere protagonista del prossimo libro che vorrei far uscire entro Natale visto il successo del secondo voglio proporre qualcosa di nuovo perché me lo sto anche in tanti e dopodiché non so dipende dalle riaperture da cosa mi permetteranno di fare perché se a un certo punto si potrà andare magari negli Stati Uniti per turismo sicuro organizzeremo dei viaggi di gruppo negli Stati Uniti perché tutti i viaggi che abbiamo organizzato per quest'estate stanno andando sold out e la gente non vede l'ora di nuove destinazioni perché si può andare veramente in 3-4 posti in croce quindi speriamo che ci siano un po' di riaperture adesso con la campagna vaccinale e tutto perché la situazione all'estero è molto più avanti rispetto all'Italia in termini di pandemia certo poi insomma io dico sempre insomma noi valutiamo piano piano vedendo anche gli effetti in base ai momenti della vaccinazione su quanto si potrà riaprire e non riaprire però è chiaro che il sogno di tutti compreso il nostro è di aprire il prima possibile perché è stato un anno lunghissimo ti faccio ancora due domande e poi so che abbiamo tempi serrati ti lascio andare abbiamo parlato prima del fatto che è importante viaggiare per formarsi io provo spesso ad informare i ragazzi delle opportunità che anche penso l'Europa mette a disposizione loro penso al Corpo Europeo di Solidarietà o esperienze come l'Erasmus Plus che riescano a raggiungere il più ampio numero di ragazzi possibile poi chiaramente in base a quante finanze hanno si riesce a raggiungere la più ampia base e mi chiedono spesso mi è capitato in realtà solo due volte ma mi ha fatto particolarmente effetto la domanda se questo tipo di possibilità ci fossero anche per chi ha delle diverse abilità e allora qui chiedo a te tu hai avuto occasione di viaggiare anche con persone disabili o organizzate tipi di viaggio anche per loro per riuscire a coinvolgerli perché penso che anche una persona che ha un'abilità diversa sul fronte fisico provare un'esperienza all'estero di viaggio possa essere qualcosa che lo fa crescere gli permette di superare le badiere e gli permette di crescere sotto certi punti di vista di superare i propri limiti allora io quando facevo la gente di viaggio ho avuto modo di interfacciarmi con persone che viaggiavano con me in sedere hotel per dirlo che avevano problematiche di tipo fisico che magari vanno a scoraggiare tantissimo si può fare il viaggiare anche con disabilità fisica e problematiche di questo tipo però è anche vero che i viaggi che organizzo io sarebbero poco fattibili in queste situazioni anche laddove volessimo organizzare delle cose fattibili per tutti io conosco delle problematiche che le persone che magari sono in sedere hotel hanno che di solito non vengono considerati come per esempio il fatto che un posto sia accessibile in sedere hotel non vuol dire che quella persona in sedere hotel riesca a viaggiare tranquilla in quel posto nel senso il Giappone è un posto estremamente all'avanguardia ma se sei in sedere hotel è un macello loro ti dicono c'è l'ascensore sì ma l'ascensore sta dall'altra parte del quartiere cioè mi è capitato di accompagnare un ragazzo che ho incontrato in viaggio attorno all'incrocio quello di Shibuya quello più trafficato dalle persone nel mondo perché non riuscivo a trovare il posto per entrare nella metropolitana una volta che sei dentro è tutto ok però se non trovi l'ascensore come fai? stesso modo l'Islanda ci sono tante cose che si possono fare anche se sei in sedere hotel però il problema è che se per terra c'è tutto il terreno sconnesso una persona in sedere hotel magari ha problemi di schiena gli vai a disintegrare la schiena per portarlo a vedere magari una cascata quindi è molto più complicato ma noi siamo al lavoro con persone che viaggiano già così per sviluppare dei tour che fossero più inclusivi in questo senso perché ovviamente a noi non ci piace tagliare fuori nessuno tranne le persone di una certa età quando facciamo gruppi magari di una fascia d'età circoscritta perché è un dato di fatto che se vengono 20-25 anni avere il 45enne è poco indicato è come una certa età 45 anni lo so però se io faccio viaggi che portano mi fai sentire male però è un dato di fatto che i ragazzi vogliono viaggiare con persone vicine a livello anagrafico quindi magari facciamo un viaggio più spostato verso i 40 dato che abbiamo uno dei nostri coordinato soci che è verso i 40 cioè che ne ha 40 io ormai ne ho 30 quindi magari io faccio quelli così e poi ce ne sono altri però a parte quello che sono questioni puramente logistiche di soddisfazione del non cliente del compagno di viaggio noi consideriamo tutti compagni di viaggio noi cerchiamo di essere più inclusivi possibili e ovviamente tagliamo via i minorenni minorenni no bisogna essere minorenni per viaggiare con noi però sì assolutamente stiamo sviluppando dei viaggi anche in Italia magari che fossero adatti che possono essere adatti anche per persone con disabilità no ne sono contenta lo dico solo perché è una questione che mi ha sensibilizzato particolarmente quando me l'ha richiesto un ragazzo di appena 19 anni chiedendomi ma io posso fare l'Erasmus Plus che viene finanziato anche se sono disabile ho detto ci mancherebbe altro perché siamo il più inclusivi possibile però ci tenevo a far dare questo dettaglio anche a te per questo senti ci chiedono di discutere ma in realtà più che discutere ti farei fare una breve battuta perché come dicevamo prima so che devi andare a breve come il cambiamento climatico può impattare anche sul turismo ambientale questa è una domanda per cui ci serviresti per un'ora forse qui a discutere diciamo che noi ci stiamo muovendo anche in questo senso perché noi facciamo viaggiare le persone in aereo e questo non è il modo più ecologico per muoversi ma non ci sono metodi particolarmente ecologici per muoversi come le persone hanno bisogno di muoversi cioè non puoi dire a una persona devi fare un viaggio puoi andare solo a piedi o in barca a velo non si può fare quindi quello che facciamo noi è piantare tantissimi alberi ogni cliente che ricambiate sì ricambiamo in qualche modo ogni persona che viaggia con noi si becca un albero nella foresta si vola c'è un albero a nome suo e allo stesso tempo cerchiamo di muoverci in maniera più consapevole quando andiamo magari in un posto non cioè noi non organizziamo crociere organizziamo magari dei viaggi dove si va in un luogo e si va a sviluppare un turismo più consapevole nei confronti delle comunità locali cioè si va nel ristorantino piuttosto che al mcdonald si va a fare un tracking piuttosto che un'attività a pagamento che va a finanziare soltanto le tasche di qualche riccone che ha comprato il terreno si va a finanziare le piccole imprese di villaggi e situazioni dove non arriva il turismo di massa quello è sempre stato il nostro intento si vive la realtà del territorio alla fine si vive la realtà del territorio anche perché ha detto sinceramente si offre un'esperienza più autentica così anche perché per andare a mangiare da mcdonald's come dicevi tu non ha molto senso andare a fare un viaggio dall'altro lato del mondo anche quando per esempio andiamo a dormire a casa della gente io ho organizzato dei viaggi dove andavamo a dormire a casa di contadini quella è la singola cosa che piace di più del viaggio tu non stai proponendo un hotel 5 stelle con la spa stai proponendo l'andare a dormire nel salotto di un tizio e quella poi diventa la cosa più bella ma tu stai sostenendo direttamente una piccola comunità piuttosto che una grande catena alberghiere queste cose fanno tanto la differenza eh no ci credo anche perché ti formano indirettamente qual è il viaggio più bello che hai fatto? dovresti farmi proprio il numero uno il cammino di Santiago quello più bello in assoluto perché rappresenta proprio come dovrebbe essere ogni viaggio un viaggio bellissimo divertente dove ci si rilassa si mangia bene ci si diverte ma soprattutto si cresce si cambia e si torna a casa arricchiti bene io devo essere onesta io da quando dico che saranno 15 anni che dico che devo farlo non l'ho ancora fatto ma a questo punto visto che c'è anche il tuo appoggio perché uno poi mette sempre avanti altre cose non riesce mai a però a questo punto visto che me lo me l'hai descritto così bene valuterò anch'io di farlo appena sarà possibile un'ultima domanda da fare da fare assolutamente un'ultima domanda che messaggio vorresti lasciare ai ragazzi che ci stanno seguendo chi ti ascolta comunque in generale ai giovani giovanissimi di questo paese di non abbattersi se ce l'ho fatta io ce la può fare chiunque non è che io fossi no sto prodigio semplicemente poi ce l'ho fatta io ho realizzato un qualcosa di personale non sono arrivato però ho realizzato qualcosa di personale che è sentirmi realizzato chiunque si può sentire realizzato siamo fortunati a nascere comunque in un paese che non è il paese più problematico sono persone che stanno molto peggio in partenza abbiamo delle opportunità cerchiamo di sfruttarle tante cose tante persone ti remeranno contro ma io penso che chiunque abbia tutto tutte le carte in regola per fare le cose che vuole fare quindi basta crederci secondo me ce la si fa e soprattutto fare quello che ti piace e non avere paura di investire su se stessi io lo dico sempre perché vedo che c'è un po' di timore investire su se stessi è molto importante non in termini di denaro ma secondo me in termini di tempo molto importante infatti una cosa che ho imparato molto sul cammino è che prendermi del tempo per rimanere con me stesso e concentrarmi sulle cose importanti nel momento in cui tutto il superfluo viene lasciato alle spalle passo dopo passo lasciavo dietro di me delle cose inutili che poi mi hanno alleggerito e con la testa veramente serena sono riuscito a portare avanti delle idee arrivare a delle conclusioni che mi stanno aiutando nel percorso che sto seguendo adesso grazie io ti ringrazio ti lascio andare ti auguro una buona avventura in Albania ti seguirò spero che ti piaccia quanto è piaciuta a me ringrazio saluto anche i ragazzi che ci hanno seguito ciao grazie mille per l'invito e a tutti quelli che ci hanno ascoltato buona giornata